ciao a tutti ragazzi io sono lori frost benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo su minecraft e dato che nello scorso video vi è piaciuto molto infatti ha fatto molte visualizzazioni e molti mi piace volevo portarvi il secondo episodio andiamo ad entrare nel nostro mondo e vi volevo mostrare una novità dato che i video e non li voglio far durare troppo e perché sono un po noiosi avevo in mente di costruire una base e una base per la nostra casa la nostra casa in futuro che come vedete è questa la base e avevo in mente di finirla oggi con voi e dopo andare in miniera dormiamo dato che sto diventando notte no ancora no dobbiamo aspettare cuociamo il cibo a sto punto mettiamo a cuocere il cibo mettiamo questo poi con lui con il legno rimasto possiamo chiudere un po la casa più avanti faremo anche un secondo piano e un piccolo orticello no una piccola fattoria dato che l'articello l'ho già fatto così almeno qui l'entrata non mi piace tanto perché vedete non devo farlo in legno qua vabbè mettiamo delle torce se no ci spavano i nostri dentro ok andiamo a dormire eccoci sono svegli allora direi di andare a prendere un po' di legno c'è qui del legno? no ok non ho il legno però aspetta ah non c'è questo con questo insomma non si possono fare i bastoncini ok andiamo a prendere il legno quanto lì c'è uno scheletro passiamo inosservati meglio questo maialino è caduto nella nostra base uccidiamo ok andiamo a prendere il legno ah qui è morto uno zombie al posto lo prendiamo da questo albero ok abbiamo quasi finito poi con questo legno copriremo un po' il pavimento e dopo lo faremo tutto di legno e pavimento e anche l'entrata direi di modificarla dato che non mi piace molto ok ok adesso andiamo se i giochi ci sono direi di prendere anche un po' di pietra oh ferro facciamo un ragnolo giù facciamo un ragnolo giù vabbè direi prendiamo questa pietra così dopo passiamo qui a prendere il ferro e io facciamo un piccone in pietra ok torniamo a casa direi di uccidere lo scheletro che è scomparso intanto la nostra pianta giorni procede bene dobbiamo cercare altri segni vedete questo è l'entrata non mi piace molto ok rompiamo le porte direi che con la tela possiamo riempire qui no ho sbagliato la porta la voglio al livello di come esco quindi qua chiudiamo aspettate quindi qua se chiudo lì la porta la metto qui no più in alto quindi devo chiudere qui anche devo fare una piccola scalettina che porta direttamente in acqua eccola qua qua e qui e qui manca l'ultimo pezzo ecco perfetto così in modo che noi siamo qui no no giusto vabbè saliamo la porta la dobbiamo mettere qui rompiamo ok qui rompiamo la terra mettiamo queste ossi di legno mettiamo le porte così ecco perfetto è meglio così mi piace di più ok con il legno che abbiamo direi di ecco ecco allora io ho dovuto fare degli stick dei bastoncini per fare un piccone e un as che ci servono Poi mettiamo qui il cibo, poi mettiamo nella fornace il carbone. Adesso andremo un po' a riempire. Ok, direi anche qui. Poi appena abbiamo finito magari la prima parte, dato che nel prossimo video non lo riempiremo tutto, ma lo riempirò io da solo, senza registrare. Ok, direi di poggiare tutto il legno, i materiali, e direi di andare a prendere, mettere a posto un piccone, ok, e andare a prendere quel ferro che abbiamo visto. No, non ero qua, qua giù mi sono. No, non ero qui. Dove ero? Ah, qui giusto. No, neanche qua. Ah, no, laggiù. Qua? Non mi sbaglio, era qui? No, non mi ricordo dove era la ragazzina. Qui non ero. Ah, no, ero vicino a casa, mi so. Ah, qui ero. No, questa non ero. Qui ero. Questa. Sì, era questa. Prendiamo il ferro. Ce n'è un bel po'. Ok. Ok. C'è anche un ragno che non lo uccidiamo, perché sennò ci fa il culettino. Torniamo a casa, poggiamo il ferro che abbiamo, anzi no, lo cuociamo. Non riesco ad entrare, ok. Lo cuociamo. Qui qua, nella fornace. Ragazzi, direi che il video può finire qui, lasciate almeno 5 like, commentate per i nuovi episodi e guardate anche, vi consiglio di controllare i canali di Sam e Fra e di Lori26. E ci vediamo al prossimo video. Bye. Ciao. Grazie a tutti